L'Arcivescovo di Salerno Campagna Cerno, Monsignor Andrea Bellanti, ha deciso di accompagnare il cammino pastorale legato all'anno dedicato a San Giuseppe con un nuovo lavoro editoriale dal titolo Andiamo da Giuseppe. In occasione del 150esimo anniversario dell'assunzione del ruolo di patrono della Chiesa Universale da parte di San Giuseppe, Papa Francesco ha indetto un anno a lui dedicato che terminerà l'8 dicembre 2021. Il libro di Bellanti vuole rispondere all'appello di Francesco per accompagnare la comunità cristiana ad andare da Giuseppe guardando a lui come modello umano di fede, coraggio, cura, responsabilità e accoglienza. Il testo è un approfondimento teologico sulla figura del padre terreno di Gesù, Giuseppe di Nazareth, santo molto caro anche al popolo salernitano che lo innalza in solenne processione durante i festeggiamenti patronali di San Matteo. Il pastore della Chiesa salernitana, già docente di sacra teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Centrale, presenterà il suo nuovo libro lunedì 14 giugno alle ore 19 sul sagrato della nuova cappella Giovanni Paolo II in via Vinciprova a Salerno. All'evento presenzerà l'autore con la partecipazione della teologa Lorella Parente, docente presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Matteo di Salerno e responsabile dell'Ufficio Arte e Cultura dell'Arcidiocesi di Salerno, Campagna e Acerno, e del professor Antonio Landi, biblista e docente di sacra scrittura presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, sezione San Tommaso.